Faccio un gran bel cast, perché tutti gli attori mi hanno dato delle grandi soddisfazioni. E innanzitutto scelgo uno che non ha mai fatto l'attore, Angelo Bernabucci, nella parte del macellaio arricchito. Sul film faccio il macellaio. A me manco mi piace la carne. Vendeva, non so se libri, enciclopedie, cose varie, eccetera. L'ho incontrato praticamente qua, in zona Piazza Farnese. Una piazzetta qui adiacente alle spalle di Via Giulia, degli amici meccanici. Parlava spesso da Roma, parlava spesso, mi faceva ridere questo personaggio che incontrava spesso al bar. C'ho una parte per te su misura. C'è tutta, la senti. Che ne so, io non so manco che una macchina da presa. Fu molto bravo Bernabucci, molto sciolto, ma fui bravo anche io, perché era il suo primo film, non aveva mai fatto l'attore. Inizialmente mi faceva girare tutti i totali, no? Che è più facile. I primi piani a me me teneva dopo, quando il primo piano tu capisci, stai così. La battuta che gli misi io mi venne in mente quando Fabris, Fabio Traversa, entrò come secondo arrivato, perché il primo è Bernabucci, che guarda la casa di una che c'è i soldi. Poi come secondo arrivato Fabio Traversa, che arriva timidino, timidivo, e lui non lo riconosce perché ha perso tutti i capelli, eccetera. Dice, ma tu chi sei? Fabris, ma che mi sta a piacere per culo? Sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabris, primo banco a destra. Ma non c'è però, tu ci hai avuto un crollo, d'ottavo grado della scala Mercalli però. Lui arrivava con un mazzo di fiori che era veramente molto scrauso, un mazzetto di fiori qua. E lì gli fa come prima cosa, ma come ti sei ridotto? Ma chi gli porti poi? Ma che so? Per la signora. Grazie. Ho mandato a rubare i fiori su una tomba, non vedi quanto, sono brutti. Io aggiungevo sempre qualcosa sulle battute, no? Ho cercato di fare le più cariche, le più carine, specialmente su Fabris, su Fabio Traversa. Guardate com'eri, guardate come sei, mi pari tu zio. E basta, ho capito, eh? Invece era solo guardano io, mi pari tu zio, ci ho messo io. Non me lo sarei mai aspettato, insomma, che è un personaggio, tutto sommato, molto piccolo, perché dopo 15 minuti all'inizio del film scompare. Scusi, signore, scusi, vi lascia l'oia questa qua? Ma vaffanculo, te vi lascia l'oia. Oh, ma chi te conosce? Ma che sei scemo. Invece rimane così impresso, insomma, ancora adesso, insomma, vengo fermato, salutato, a distanza, come... Fabris! E tu? Chi sei? Mi ha chiamato per dirmi, Carlo, io non la posso più, me dicono tutti quanti, ah Fabris, ma come te sei ridotto? Io non posso girare per strada, mi ricordo come era diventato un grosso problema. Io non sono nessuno, nessuno.